Guardate l'espressione di ogni singola persona per capire che questa banda musicale è una cosa stupenda. Ogni singola persona è felice, felice di avere amici così stupendi. Avere un gruppo così è una grande fortuna, qui i problemi passano inosservati, l'amicizia risalta su tutto il resto. Suonare nei ciocca piatta per me è una grande gioia. Siamo un gruppo composto da ragazzi e adulti con caratteristiche, passioni e modi di fare diversi, ma con una cosa in comune, la voglia di stare bene, di sorridere, di fare musica e di suonare insieme. Sono felicissimo di suonare con loro e sono sicuro che continuerò a divertirmi suonando fino a quando il gruppo esisterà. Non c'è modo per descrivere l'importanza di ciò che ha piato per me. Grazie. 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 Grazie.